Buongiorno a tutte e a tutti. Io spero che mi perdonerete quella che almeno potrà sembrare o potrebbe sembrare una sorta di deformazione professionale, nel senso che potrebbe accadere che, quanto sto per dirvi, appaia il frutto di una eccessiva attenzione alla funzione delle idee, delle ideologie, delle culture politiche diffuse nella società e in primo luogo nei gruppi dirigenti delle organizzazioni politiche e sindacali, in particolare della sinistra. Però io penso che il tema di questo incontro sia un invito a nozze in questo senso, perché la questione della rappresentanza, se non la vogliamo banalizzare, non la vogliamo ricondurre sempre di nuovo alla cronaca e alle analisi che si limitano al contingente, chiama in causa, anzi pone al centro, proprio il tema degli strumenti teorici, attraverso i quali i soggetti organizzati leggono la realtà, leggono la composizione sociale, leggono se stessi nel campo delle soggettività e nelle relazioni tra le soggettività. La questione della cultura politica io credo che sia centrale nella vicenda che adesso Gianni Rinaldini ripercorreva. Sono temi complessi, anzi io vi chiedo scusa in anticipo, in apertura, per la sommarietà dello schema che vorrei sottoporvi a questo riguardo. Io penso che noi siamo oggi, oggi nella fase nella quale ci troviamo, alla chiusura di un ciclo, il che non significa, badate, che ne stia cominciando un altro. Un ciclo si può concludere e può imporre un impasse, che può essere anche di lungo periodo. Sta di fatto che un ciclo si aprì tra la fine degli anni 70 e gli anni 80 e si aprì sul terreno della lotta ideologica, come vi ricorderete, all'insegna delle celebrazioni, della morte delle ideologie. Così si disse, al tempo in realtà si celebrava, anche se non lo si diceva, la morte o l'agonia di una sola ideologia o di una sola cultura che si definiva come ideologia, e cioè la morte o l'agonia della lettura classista della società. Badate con l'illusione che cambiare le lenti automaticamente legittimasse una trasformazione reale e questo avveniva anche nelle file della sinistra politica e della sinistra sindacale, bisogna, di gran parte della sinistra sindacale, bisogna credo riconoscere. Ora, non che allora non avvenissero trasformazioni reali e profonde, avvenivano, ma avvenivano precisamente in senso opposto. Si veniva abbiurando o ci si veniva distanziando da una lettura classista della società proprio nel momento in cui, di fatto, il conflitto di classe trionfava. E trionfava sulla base della ristrutturazione potente dei processi di produzione e dei processi di regolazione dei mercati, del mercato del lavoro, del mercato delle materie prime, del mercato dei capitali. Ristrutturazione potente che portava con sé la ridefinizione degli stessi equilibri politici e geopolitici internazionali, come si sarebbe ben presto riconosciuto alla fine degli anni Ottanta. Sta di fatto che noi possiamo dire che nel giro di 20-30 anni, gli ultimi 20-30 anni del Novecento, il mondo è cambiato. E si è verificata una riconfigurazione, effetti di portata equiparabili almeno a quelli di una guerra mondiale. Anche se, vorrei richiamare la vostra attenzione, quando si dice tutto è cambiato in realtà ci si inganna. Perché non c'è mai, per quanto profondo possa essere un cambiamento totale. E quando si dice tutto è cambiato, spesso poi si suggerisce a se stessi che è cambiato a tal punto che non c'è più il capitalismo. E invece no, noi dobbiamo dire che è cambiato all'interno di uno sfondo di lungo periodo che mantiene ovviamente il dominio del capitale e in particolare del capitale privato nella forma di un capitalismo che vagheggia la eliminazione di qualunque ostacolo sul terreno del conflitto sociale e del conflitto politico. Però il punto qual è, secondo me? Il punto è che, e guardate è un paradosso che per quanto io ne so non ha antecedenti nell'intera storia del movimento operaio e delle organizzazioni politiche vicine al movimento operaio. Il paradosso è che la cultura dei gruppi, la cultura politica dei gruppi dirigenti, politici e sindacali è cambiata in una direzione opposta ai processi reali che si venivano producendo. Voglio dire che invece di vedere una sconfitta in quello che accadeva e quindi di riconoscere una vittoria dell'avversario e quindi di continuare a riconoscere un avversario nell'avversario che prevaleva e quindi in definitiva invece di tenere le posizioni si è affermata, a me così pare almeno, una lettura di senso, di segno rovesciato. La sconfitta è stata battezzata come modernizzazione per cui chi contrastava questa tendenza veniva considerato un conservatore se non un nostalgico oppure addirittura come si leggeva questa sconfitta come un destino un po' come sarebbero un destino e guardate che il parallelo non è innocente i trattati europei che di fatto decidono la logica e lo sviluppo dell'unità europea. Sta di fatto che la lettura classista, la lettura conflittuale veniva ripudiata come anacronistica e che si è via via provveduto a riposizionare le organizzazioni su un terreno differente da quello della loro storia. Guardate, non lo dico io, lo dice uno storico del movimento operaio che di tutto può essere accusato meno che di inclinazioni estremiste come Giuseppe Berta che ha parlato di eclissi della socialdemocrazia e non parliamo ovviamente delle posizioni ancora più radicali. Questo in un quadro europeo in un quadro occidentale nel suo insieme però ha ragione Gianni Rinaldini a ricordarci che esistono delle specificità italiane in questo processo e noi di queste specificità dobbiamo tenere conto. Ora, questo riposizionamento dei gruppi dirigenti non è che abbia determinato i processi. I processi avvenivano su basi materiali sul terreno economico, sul terreno sociale e sul terreno politico però li ha indubbiamente consolidati e radicalizzati nella misura in cui ha favorito la rimozione di un argine e quindi l'occasione per una massiccia offensiva che ha avuto di fatto il carattere dello sfondamento. Anche qui io vorrei fermare, se mi permettete, un punto di principio. Non è vero che quando si formula un giudizio sulla realtà questo giudizio è fuori dalla realtà. Non è vero. Il giudizio che tu esprimi sta dentro la realtà, ne fa parte ed è una precisa assunzione di responsabilità ai fini dello sviluppo concreto dei processi reali. Perché altrimenti non si capisce niente e non si capisce neanche quale sia la funzione dei gruppi dirigenti. E non per precipitare dalla storia alla cronaca immediata però guardate che anche il trionfo di Renzi fa parte di questa vicenda e parla di questa vicenda e si può intendere appieno solo dentro questo quadro sia per i contenuti politici perché noi abbiamo di fatto il trionfo di un gruppo dirigente e di una figura che incarna l'individualismo competitivo e di fatto la storia del neoliberismo non perché lui, giovane e fanciullo possa essere ritenuto responsabile di tutto questo trentennio, di questo quarantennio ma ne ha sicuramente assunto le caratteristiche più salienti sia per gli aspetti non meno importanti per gli aspetti di tipo informale cioè per il tipo di rapporto tra leadership politica e base di consenso per cui non è più la militanza che ha il controllo che segna l'orientamento del soggetto politico del partito in questo caso ma sono i cosiddetti elettori che bisognerebbe piuttosto chiamare spettatori. sta di fatto che io credo che la condizione del lavoro subordinato cioè del lavoro operaio in senso proprio e se ne avrò il tempo dirò qualcosa su questo si determina in questo quadro complesso e di lungo periodo la solitudine del lavoro la sconfitta del lavoro maturano in questo quadro voglio dire l'avversario aveva forze possenti le basi tecniche, finanziarie, politiche persino militari come si è visto della cosiddetta globalizzazione ma senza l'egemonia che il capitale ha conquistato ed esercitato su gran parte dei gruppi dirigenti politici e sindacali in Italia e in Europa questa sconfitta non avrebbe avuto esiti anali diritti, garanzie, tutele persino le esigenze vitali del lavoro subordinato sono stati via via considerati privilegi lussi anacronistici sono stati guardati con indifferenza con sufficienza con ostilità questo nell'opinione pubblica ma anche ripeto nelle organizzazioni io ho avuto una brevissima esperienza parlamentare sono stato in commissione lavoro vi assicuro che persino parlare di precarietà era considerato come dire politicamente scorretto non si doveva dire precarietà si doveva dire flessibilità e non era soltanto la destra a pretendere questo guardate che il linguaggio non è un epifenomeno che non abbia una concreta valenza e potenza in questo quadro le lotte sono state via via guardate con fastidio come residui e come impropri ostacoli alle sorti progressive prima dicevo operai in senso proprio e intendevo dire che gli operai per chi guarda una società nella sua struttura di classe sono tutti i lavoratori subordinati non solo chi è in fabbrica ma chiunque sia sostanzialmente economicamente concretamente dipendente dal comando capitalistico anche se giuridicamente autonomo e perché dico questo perché e con questo mi avvio a concludere vedete intorno al termine operaio e al concetto di operaio si è giocata come sempre accade in questi anni ai quali mi sto riferendo una partita importantissima di tipo simbolico ideologico ma anche politico perciò stesso politico quante volte ci siamo sentiti dire ma gli operai non ci sono più dai ma cosa ti attardi in una battaglia marginale residuale che cosa si è inteso dire spesso in ottima buona fede che il lavoro vivo oramai sarebbe una componente marginale e accessoria guardate questo non è soltanto una sciocchezza questo celebra e avalla ed esaspera il trionfo ideologico del capitale che si erge come sovrano assoluto perché reclamerebbe reclama una sua presunta autosufficienza e perché di fatto può avere mano libera contro un esercito di invisibili che si è aiutato a rendere invisibili ebbene queste sciocchezze hanno avuto campo libero anche a sinistra e non è servito a granché ricordare che si trattasse appunto di sciocchezze anche a sinistra ci si è accodati alla grande narrazione neoliberale che ha consacrato come destino come dinamica incoercibile la vittoria ad oggi del capitale dicevo aprendo che siamo alla chiusura non alla conclusione alla saldatura di un ciclo nel senso che quel ciclo apertosi nel segno della demolizione della cultura classista sembra oggi saldarsi nel segno della pervasività dell'ideologia post classista ancora prima che interclassista pensiamo appunto lo diceva Gianni prima alla composizione del Parlamento della Repubblica che dovremmo sapere leggere in trasparenza anche nella composizione culturale o sottoculturale che lo caratterizza e siamo così a questo panorama politico e sociale frantumato il che naturalmente non significa certo che ci si debba limitare a prendere atto di questo stato di cose è sin troppo ovvio qui tra noi che l'analisi della realtà fosse la più problematica è sempre solo la premessa per riflettere sulle condizioni di una lotta possibile per trasformare la realtà in controtendenza e questo vale anche per noi oggi però questo deve avvenire con la consapevolezza che proprio perché abbiamo alle spalle una storia non breve di arretramento e anche di errori abbiamo di fronte una lotta difficile e di lunga lena allora quando nel documento che ha segnato il percorso di questo seminario in particolare dell'incontro di oggi ci si pone la domanda è proprio l'ultima cosa che dico su come si può uscire da questa situazione io vorrei dire una cosa senza nessuna pretesa di indicare la cosa da fare ma una delle cose da fare però una cosa secondo me non eludibile ed è precisamente ricostruire una cultura politica lavorare per dare consapevolezza nel del carattere della lotta , fondamentale del conflitto fondamentale di questa società perché ogni illusione di poter riconquistare il terreno perduto senza rinsaldare le basi culturali della nostra gente sarebbe appunto l'illusione di poter battere scorciatoie per ritrovarci poi sempre di nuovo a piede del monte vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.